Buonasera amici di Newsbiella.it ci sono le notizie più importanti di oggi mercoledì 19 ottobre iniziamo con la cronaca a Mongrando abbandona i rifiuti ma viene scoperto e multato il sindaco Antonio Filoni chiede la collaborazione dei cittadini segnalate simili comportamenti Banca Sella lancia la carta prepagata per i giovani dai 12 ai 17 anni e una carta che è stata realizzata in plastica riciclata dagli oceani altra notizia molto attuale legna da ardere boom di richieste e prezzi in aumento anche nel biellese in chiusura una notizia molto bella e importante per i fedeli non solo biellesi infatti a novembre Papa Francesco sarà ad assi e per oggi 19 ottobre è tutto grazie e buonasera